preparate lo so già guardando la durata del video siete preoccupati ma io ve l'avevo detto vi avevo avvisato dire di partire e allora ragazzi un saluto a tutti siamo con i difensori low cost un video eterno ho fatto un lavoro pazzesco per raggruppare tutti i difensori che possono essere utili in un fantacalcio addirittura a 10 quindi complessivamente ci sono almeno 80 nomi c'è un lavoro pazzesco perché poi io sono un po puntiglioso quindi ho dovuto sistemare tutto quindi sfondate il tasto del like almeno mille e domani escono i centrocampisti top mi raccomando continuiamo questa serie proprio soprattutto per chi all'asta in questi giorni un lavoro pazzesco mettetevi comodi mettete il video velocizzato fate quello che volete ma guardatelo tutto perché ci sono tanti fantaconsigli vi ricordo anche che in descrizione trovate il link per scaricare one football applicazione gratuita che vi aggiorna sul mondo del calcio utile anche per i fantallenatori perché vi aggiorna su probabili formazioni conferenze stampa con indicazioni a riguardo quindi trovate il link per scaricarla qui sotto in descrizione mi raccomando poi a fine video vi ricorderò anche della nostra lega pubblica ed anche della lega privata che ho appena creato passiamo ai fantaconsigli perché ragazzi c'è un lavoro pazzesco guardate qui ho completato il file file che troverete aggiornato in descrizione però prima vi consiglio di guardare il video perché vedi i fantaconsigli non sono i nomi iscritti la scomposizione ma quello che penso su ogni singolo giocatore vi avevo promesso di fare l'analisi su ogni singolo giocatore utile al fantacalcio ed eccola qui c'è solo qualche giocatore che non magari vedrete scritto e perché o magari non lo reputo importante essenziale in un fantacalcio a 8 o a 10 o perché non sapevo dove piazzarlo o non ero sicuro della sua titolarità e quindi ho detto beh tralasciamolo in caso poi lo inserirò più avanti ve ne parlerò in qualche live ok detto questo nello scorso episodio ci eravamo lasciato con i semi top quindi avevamo analizzato top e semi top quindi dobbiamo ripartire dalla seconda fascia direi di velocizzare vi ricordo appunto anche guardate qui la tazza passate dal link in descrizione nelle schede vi lascio il nostro store dove appunto potete acquistare gadget partiamo e allora a samoa ragazzi a samoa dovrebbe essere il titolare di sinistra dell'inter conosce i meccanismi di conte quindi potrebbe essere utile al fantacalcio perché può portare buoni voti col modificatore ho messo l'asterisco perché qualche partita non la farà da titolare magari si alternerà forse col dalbert o scansiamoci oppure con qualche altro giocatore magari adattato ok state attenti a questa cosa però comunque dovrebbe essere un buon giocatore al fantacalcio sotto ovviamente i 10 credit assolutamente biragi biragi mi piace invece molto perché può portare diversi bonus dai calci d'angolo delle punizioni un giocatore che ha un buon piede anche un tiro da fuori interessante buoni cross insomma un giocatore che è molto appetibile secondo me tra la seconda fascia mi piace molto l'irolam e ne avete parlato in molti si è vero l'anno scorso è stato uno dei migliori in termini di assist però non facciamoci abbagliare da questa cosa perché potrebbe avere una stagione un po più triste rispetto alla passata è vero che gioca comunque nella fiorentina adesso è una squadra che potrebbe metterlo ancora di più in luce però attenzione a non pagarlo troppo sotto i 10 credit assolutamente intorno a 7 potrebbe essere un prezzo buono passiamo a vavro ve ne ho già parlato nel vicosia al fantacalcio il nuovo giocatore della lazio utile forse notica modificatore anche qualche golletto perché è forte di testa quindi su pallina attiva potrebbe metterla dentro ma cerchiamo anche per lui di mantenerci assolutamente sotto i 10 fantabilioni è un giocatore comunque nuovo della serie a non spendiamo troppo poi inserito murillo che torna in serie centrale nella sampdoria potrebbe fare qualche gol e prendere buone valutazioni anche lui mi sembra un buon acquisto da poter fare come quarto slot ci può stare in una lega numerosa perché no passiamo invece a spinazzola spinazzola ragazzi in teoria come vedete l'asterisco perché forse da prendere in coppia con kolarov o florenzi in teoria si può prendere anche da solo però solo se avete già un reparto con diversi titolari è un giocatore che secondo me lo spazio lo troverà può portare molti bonus e valutazioni positive quindi anche notica modificatore è buono se riuscite a pagarlo sotto i 5 crediti ad esempio è tanta roba però non cercate di superarli troppo non spendete troppo perché comunque non sempre saprete se giocherà o meno passiamo a fazio o anche per lui ho messo l'asterisco perché io penso che la rom un altro centrale lo dovrà comprare non può giocare tutta la stagione con fazio titolare questa è la mia sensazione è vero durante una stagione porta diversi gol l'anno scorso ne ha segnato 4 5 e sono tanti però ha portato anche una balanga di insufficienza figuratevi che la fanta media nonostante i 5 gol era comunque normalissima anzi un po bruttina quindi considerate anche questo aspetto quindi io sinceramente andrei su altro però non ho messo in seconda faccia perché se non la roma non acquista un altro centrale comunque lui molte partite le giocherà e qualche gol lo potrebbe ancora portare comunque io oltre i 5 fanta milioni sinceramente per lui non andrei romero del genoa dovrebbe essere titolare nel genoa può portare buone valutazioni quindi in ottica modificatore è buono però anche molti cartellini quindi state attenti ve ne ho parlato forse anche nel vi consiglio al fanta calcio un giocatore per il quale non farei follie però in ottica modificatore comunque titolarissimo potrebbe essere più utile al fanta calcio per quanto riguarda invece da x lui sì che mi piace in ottica modificatore è molto molto buona quest'anno potrebbe anche portare più bonus visto che l'anno scorso è stato povero da questo punto di vista per lui forse i 5 fanta milioni potrei anche superarli 6 e 7 ci potrebbe anche stare però per sensazioni mie personali ferrari del sassuolo altro giocatore interessante in area di rigore invece quindi bonus potrebbero essere qualche più 3 magari da calcio da fermo però in ottica di valutazioni e munizioni quest'anno il sassuolo in difesa potrebbe subire un bel po di gol e quindi attenzione alle partite un po complicate poi ho messo calabria con un bel grosso un grosso asterisco asterisco va bene va continuiamo perché perché sono convinto che conti che ho messo poi qui nelle scommesse gli togliere il posto lo reputo più forte ragazzi conti mi piace troppo e quindi calabria lo dovete per forza per forza prendere con conti quindi complessivamente il costo non deve essere esagerato quindi calabria lo dovete pagare poco ragazzi se pagate calabria ad esempio jack 10 crediti mi sembra un po esagerato personalmente poi passiamo a palomino palomino ragazzi invece dovrebbe partire titolare magari sulla sinistra visto che centrale potrebbe giocare scartal però si alternerà molto infatti anche qui potrei mettere un bel asterisco dimenticato a metterlo quindi attenzione buon giocatore in ottica modificatore può fare anche qualche gol però non pagate lo troppo perché magari in coppia potete andare a prendere ad esempio un masiello che dovrebbe essere quello con cui si potrà alternare di più oppure jim city poi passiamo a musacchio altro giocatore al quale ho messo un asterisco perché perché durante la stagione penso non giocherà moltissime partite a titolare la gran parte magari il 60 per cento sì però poi si alternerà quindi non abbiamo questa sicurezza di titolarità e in coppia forse con duarte potrebbe essere una buona scelta o addirittura caldara ma caldara ha un rientro molto randomico quindi non abbiamo informazioni a riguardo passiamo a milenkovich invece lui diciamo mi affido di più per quanto riguarda la titolarità è vero potrebbe perdere ogni tanto il posto per cercherini che è un altro giocatore interessante però milenkovich in ottica di bonus è molto molto buono perché è imponente in area di rigore avversario quindi qualche gol secondo me in una stagione lo porta quindi almeno due gol quest'anno me li aspetto il costo sotto i 5 fantamilioni ragazzi intorno ai 5 massimo 6 ecco murro murro ragazzi ho messo un asterisco non perché si alternerà ma perché addirittura potrebbe magari perdere il posto è un giocatore interessante porta molti assist durante una stagione però in ottica di valutazioni non sempre porta alla sufficienza quindi non è buonissimo perché usiamo un modificatore di difesa e in più c'è qualche giocatore interessante la samp come terzini panchinaria giocatori interessanti che potrebbero alternarsi con quelli titolari quindi attenzione poi per ho messo l'arsen dell'udinese lui invece un giocatore che mi piace molto utile anche per il fantacalcio mantra perché può essere difeso di centrale terzino e anche quindi tanta tanta roba quindi nel caso di fantacalcio mantra il costo potrebbe essere ben più alto dei 5 fantamilioni però comunque nel complesso ragazzi è un low cost che vi fa una buona stagione vi porta anche dei bonus perché gli assiste li sa fare quindi attenzione all'arsen colle invece dovrebbe essere il compagno di reparto di murillo giocatore che durante la stagione potrà prendere sia buone valutazioni che un po di insufficienza il problema è che voi dovete cercare di schierarlo nelle giornate giuste quindi l'ho messo in ottica modificatore però state attenti perché qualche giornata no l'avrà quindi io sinceramente non andrei oltre i 5 fantamilioni per lui discorso diverso invece per d'ambrosio perché dalla sua al punto interrogativo per quanto riguarda la titolarità infatti io ho messo l'asterisco i bonus ogni anno li porta che siano gol magari su calcio d'angolo perché si sa smarcare non so come facciano a perderselo forse lo sottovalutano anche gli avversari però ragazzi ogni tanto se lo perdono e porta dei bonus che siano assist o gol quindi giocatore che comunque secondo me preso in coppia anche con i centrali non per forza con esempio una Samoa o i centrocambisti poi dell'Inter ma preso anche con i centrali perché potrebbe fare il terzo di difesa ad esempio e far rifiatare uno dei tre centrali è tanta tanta roba quindi ci può stare sotto i 5 fantamilioni è un buon acquisto secondo me passiamo a quelli di terza fascia quelli di seconda erano giocatori che poterate prendere magari come terzo quarto quinto slot secondo me in fantacalcio 8 a 10 e per quelli di terza fascia invece sono giocatori che potete prendere tra gli ultimi slot quindi dal quinto a scendere partiamo con danilo danilo del bologna giocatore che comunque dovrebbe essere ancora un leader nella difesa del bologna quindi in ottica modificatore buono perché la sufficienza spesso la porta a casa e ha esperienza quindi ci può stare sotto i 5 fantamilioni è un acquisto che ci sta vicari vicari della spalla e ve l'ho parlato nel di consiglio al fantacalcio abbastanza affidabile porta abbastanza bonus nel senso che uno due gol durante la stagione li può fare e in più prende pochi cartellini mi auguro che questa stagione sarà ancora così quindi sotto i 5 fantamilioni secondo me ci sta è il centrale della difesa della spalla cacciato ora invece del cagliari giocatore che sa portare dei bonus che siano assist o qualche gol appunto su pallina attiva per lui qualche credito uno un fantamilione magari è già buono due fantamilioni ci possono stare di più inizia a essere forse un prezzo un po troppo ecco rogerio e tojan ne parlo insieme sono i due terzini che dovrebbero appunto giocare quest'anno nella nel sassuolo attenzione però al ballottaggio perché c'è anche a japong rogerio qualche bonus lo può portare ma anche a diversa insufficienza quindi sinceramente sopra i due fanta milioni io non andrei torce neanche utile appunto sono entrambi utili anche per il fantacalcio mantra tra l'altro torce neanche se non sbaglio sia terzino destro che sinistro oltre che la è proprio questo me lo sono segnato quindi ci può stare anche il rilanci no in un fantacalcio mantra parliamo adesso di pellegrini che dalla juventus è andato al cagliari quindi loro inserito in terza fascia altrimenti l'ha premesso nelle scommesse perché non sapevo ancora diciamo del trasferimento adesso è ufficiale dovrebbe essere appunto al cagliari e l'ho inserito in terza fascia perché è un giocatore che al cagliari ha fatto abbastanza bene lo scorso anno può portare diversi bonus non ha la titolarità assicurata perché ogni tanto si alternerà o con l'aico giannis o con qualche altro giocatore quindi l'ho messo lì a due fanta milioni ci può stare berenzischi berenzischi ragazzi un giocatore che è titolare parte titolare ma ho sensazioni strane per quanto riguarda questa titolarità durante l'anno potrebbe essere messa in discussione ogni tanto anche prende brutte diciamo valutazioni non è quello che ti garantisce il 6 quindi per questo non avevo tutta questa sensazione positiva sul giocatore non l'ho volto mettere più in alto quindi ci sta uno due fanta milioni ma non di più secondo me passiamo a martella avevano parlato nel vi così al fanta calcio giocatore invece che mi piace ci può stare come lo costa un fanta milione è un buon acquisto calcio con gente esperta magari ci sarà qualche rilancino per questo non ho messo un fanta milione quindi ci può stare magari prenderlo a due massimo tre ecco passiamo invece a quelli che io andrei a prendere a un fanta milione soprattutto nella lega 8 una lega 10 ci può stare comunque anche un fanta milioni perché in ogni caso sono quasi 89 ragazzi quindi anzi forse di più di 89 passiamo di ceppitelli titolare scarso attenzione a questo questa scritta ragazzi quando metto titolare scarso non è che il giocatore sia effettivamente scarso è una categoria che di cui vi ho parlato nel nei video sulle strategie per chi non le ha viste perché si è scritto di recente andate prima di vedere tutti questi video andatevi a vedere quelle sulle strategie lì c'era scritto titolare scarso ovvero quello da prendere tra gli ultimi slot che vi assicura la valutazione cioè l'unica funzione sua è quella di metterlo magari in panchina e non lasciarvi in dieci uomini ok quindi ceppitelli titolare scarso vi servirà magari da mettere in panchina un fanta milione sto discorso per trusse cong che ogni tanto prende anche buone valutazioni quindi titolare scarso ottimo dovrebbe essere il centrale difensivo dell'udinese forse ogni tanto si alternerà con de maio ma credo che comunque sarà lui il titolare magnani del brescia attenzione perché lui è un giocatore molto buono poteva essere ben più in alto un giocatore mi piace molto perché prende buone valutazioni per il modificatore è ottimo quindi può andare via anche a più di un fanta milione il problema è che in una nuova squadra ok lui aveva fatto bene col sassuolo nel brescia magari si deve ancora ambientare è un giocatore molto interessante io l'ho una scommessina su di lui l'andrei a fare quindi poteva rientrare benissimo nelle scommesse poi ho messo un baie del bologna parte titolare ragazzi ma durante l'anno credo si alternerà o con tome jasu con qualche altro giocatore quindi state un po attenti prendetelo a poco perché magari vi sarà utile all'inizio del campionato però non è detto che lo sarà durante tutta la stagione passiamo a biraschi del genoa titolare scarso non vi porterà chissà quanti bonus però dovrebbe essere lui sul centrodestra del genoa quindi ci sta spendere un fanta milione per lui poi ho messo felipe della spalle giocatore che non mi piace tantissimo prende tantissimi cartellini non so se ne ha presi tipo 12 ammunizioni lo scorso anno una valanga però ragazzi segna segna tantissimo l'anno scorso ha fatto tre o quattro gol insomma in area avversaria è pericoloso quindi se indovinata la giornata giusta ci può stare in più è titolare quindi un fanta milione per lui secondo me non fanno calcio numeroso ci può stare poi ho messo anche gaiolo la viola che è un giocatore che mi piace non ha una fanta media pazzesca per ogni tanto il 6 a casa se lo porta tra l'altro dovrebbe essere il titolare di sinistra perché lui gioca sia centrale che a sinistra e notica mantra dove controllare non ricordo al momento quali ruoli gli spuntano ma potrebbe essere anche utile in ottica mantra quindi un fanta milione secondo me per lui ci può stare poi ho messo cione che cione che ragazzi in teoria potrebbe anche non starci ok perché non mi piace molto è anche lui abbastanza falloso tanti cartellini però come titolare scarso da ultimi slot in un fanta calcio a 10 ci può stare lo metti lì in panchina e ti copre questa è l'unica funzione sua al fanta calcio poi ho messo laurini tra l'altro qui ci posso mettere anche l'asterisco perché è appena arrivato al parma quindi non ha la titolarità proprio assicurata dovrebbe essere però lui durante la stagione giocare vediamo ragazzi potrebbe fare bene portare qualche bonus anche se non è un giocatore con una qualità pazzesca però la sua funzione al fanta calcio potrebbe averla un fanta milioni in una lega numerosa ci può anche stare poi inserito marlon che dovrebbe essere il titolare del sassuolo quindi l'ho messo per questo perché dovrebbe giocare titolare però non mi fa impazzire perché porta molta insufficienza e come detto la difesa del sassuolo non è sto granché quindi se cercate comunque uno che durante la stagione sarà titolarissimo da mettere come ultime slot ci può stare appunto prendere marlon passiamo alle scommesse prima di passare alle scommesse ci sono alcuni giocatori ragazzi come desci io basto su lui se felipe e zapata che non ho inserito in nessuna categoria perché non sapevo o dove inserirli mi mettevano in difficoltà perché bastos dovrebbe partire titolare ma si potrebbe alternare appunto con lui felipe oradu quindi erano giocatori che difficilmente potevo collocare quindi ve lo chiedo a voi voi dove li avreste collocati questi quattro giocatori ok ditemi questo è stesso discorso per gli altri giocatori che non vedrete in questa lista o non erano giocatori che effettivamente vorrei andare a prendere al fantacalcio oppure magari sono non sono stati ancora specializzati oppure sono giocatori che non sapevo dove infilare quindi sinceramente non mi andava di dirvi due cazzate ecco passiamo alle scommesse velocemente ragazzi perché sta durando tantissimo questo video un po d'acqua ok e proseguiamo con le scommesse ho messo masiello masiello perché quest'anno non parte titolare è stato uno dei flop della scorsa stagione ha perso un po il posto però è ancora utile ok come l'erba tinta morimoi è lo stesso e masiello ragazzi giocherà ancora prendetelo in coppia cioè andate a prendere palomino ci sarà andare a prendere masiello a poco sotto ovviamente i 5 famiglioni 2 3 quanto ve lo lasciano ok ci può stare stesso discorso per il gym city perché però potrebbe avere un ancora una crescita buone valutazioni qualche gol insomma sono super giù alla stessa valutazione però non potete prendere in coppia questi due dovete prenderli in coppia con uno di tratto lois cartel e palomino ok quindi state attenti passiamo invece adesso a demirale demirale ragazzi l'ho messo nelle scommesse perché mi piace qua come noterete ragazzi sono la maggior parte sono giocatori panchinari che però durante la stagione potrebbero fare più partite del previsto ok demirale va preso in coppia ragazzi quindi se andate a prendere un delict un bonucci un chiellini secondo me un demirale ve lo dovete portare a casa a pochi fanta milioni ci può stare giocherà le sue partite perché un difensore molto valido che può segnare anche diversi gol l'anno scorso ha segnato addirittura più di un gol in poche giornate comunque quindi secondo me potrebbe essere una buona rivelazione di questa stagione passiamo a mal quit messo anche qui perché secondo me non giocherà poche partite darà un bel po di ballottaggio a di lorenzo dovete per forza se prendete di lorenzo andare a prendere anche mal quit però attenti al costo non cercate di non pagarlo troppo quindi state attenti a questo a questa coppia anche lui potrebbe comunque portare diversi bonus e anche buone valutazioni poi inserito line attenzione a lui può essere forse uno dei pochi che può essere anche preso da solo ok se avete una difesa con diversi giocatori titolari potete anche prendere online da solo perché magari spesso subentrerà e comunque le valutazioni le prenderà in ogni caso in coppia con de silvestri è perfetto prendete dei silvestri magari sotto costo in saldo e poi vi andate ad aggiudicare anche online giocatore che prende buone valutazioni anche dei diversi bonus li può portare quindi intorno ai 34 anni milioni ci ma può anche stare poi ho inserito conti conti che in coppia con calabria ma appunto preso e che secondo me può anche rubargli poi il posto durante la stagione il giocatore e dal punto di vista offensivo e tanta roba quindi qualche bonus lo può portare mentre per lianco l'ho inserito qui ragazzi in teoria il terzo centrale della del torino ragazzi è complicato perché c'è lianco c'è bremer c'è anche bonifazi c'è un altro gg ci sono troppi giocatori per un posto ragazzi perché un culo e izzo sono titolarissimi quindi lianco sinceramente lo prendete a un fandamiglione ci può anche stare di più ragazzi due fandamiglioni già mi sembrava un po tantino è una scommessa avete un reparto completo provate anche lianco magari sarà il titolare durante la stagione il terzo della della difesa del toro poi inserito teravest invece sul quale ho buone sensazioni la mia scommestina nessuno ne parla non so come mai ma è un giocatore secondo me dove tudor sul quale tudor punterà molto può giocare come esterno di sinistra di destra al mantra è anche abbastanza utile può portare dei bonus insomma ragazzi su questo giocatore io un credito ce lo butterei e soprattutto anche in alcuni fan da calcio può avere una quotazione bassa e potete anche andarlo a prendere per chi magari parte con il fan da calcio con le quotazioni quindi state attenti a questo giocatorino poi passiamo a paiak paiak è già del genoa ragazzi è un giocatore che all'empoli ha fatto molto bene e adesso è passato al genoa da per via diciamo del cagliari dovrebbe appunto essere del genoa e questo mette in difficoltà i fan d'allenatori perché c'è barreca c'è crescitto che può giocare esterno e adesso c'è anche paiak tutti i giocatori sulla sinistra e mi mette in difficoltà perché non so se questo fan da milioni e spendercelo o meno perché andrea soli l'ha voluto secondo me perché ha visto bene appunto all'empoli e credo che quindi lo utilizzerà quindi è una scommessina effettivamente che ci può stare a un fan da milioni però dovete avere in ogni caso un reparto completo oppure dovete avere almeno crescito se avete crescito ci può stare anche un vanno da milioni per appunto paiak o barreca uno dei due passiamo a tomiasu del bologna giocatore che potrebbe portare qualche colgine assegnato forse anche già nel precampionato può giocare sia come centrale che come terzino destro quindi io penso che durante la stagione potrebbe anche togliere il posto ambaie o comunque alternarsi molto con sia i centrali che con appunto così chiama il terzino quindi state attenti a sto giocatorino potrebbe essere interessante discorso simile per duarte che si potrà alternare con musacchio quindi in caso prendeteli in coppia ci può stare quando prenderli in coppia caldara avendo l'infortunio non so quando tornerà quindi da questo punto di vista abbiamo un po più diciamo incognite ecco simile il discorso per rodriguez però essendo hernandez infortunato all'inizio campionato rodriguez qualche partita titolare la farà quindi il fanta milione non sarà proprio buttato se l'ho appunto andata a prendere in coppia con hernandez ci può stare avere questa coppia come terzini passiamo invece adesso dopo questi giocatori che sono panchinari ma che potrebbero comunque fare più presenza del previsto ad altri invece che potrebbero essere titolari di squadre di bassa classifica che sono sconosciuti ma che secondo me magari possono esservi utili sabelli ragazzi del brescia giocatore interessante ho messo come titolare scarso ma potrà anche dare secondo me qualche bonus un fanta milione secondo me ben speso stesso discorso per denzil però che è un centrale difensivo titolare scarso dovrebbe essere uno dei titolari un fanta milione però qui è un po più scommessa se ad esempio un fanta milione tra questi le andrei a mettere più su sabelli rodrigo beccao giocatore dell'udinese dovrebbe essere il centro sulla centro destra giocatore che anche dei piedi buoni dovrebbe essere il titolare un fanta milione in una lega 10 forse ci può anche stare però una scommessia così proprio la ultimo slot con un reparto già ben completo pensare invece del lecce ragazzi lecce come vi ho detto in casa si comporta bene e quindi ho voluto inserire sia il terzino destro che quello sinistro però mentre a destra benzer non dovrebbe avere grosso ballottaggio quindi il fanta milione può essere appunto ben speso e lo andate magari a schierare ogni tanto nei scontri diretti in casa calderoni invece ha un po di ballottaggio con il convera un giovane talentuoso che tra l'altro ha segnato anche nel precampionato e quindi durante l'anno non è detto che sia sempre titolare quindi state attenti per questo messo l'asterisco altro giocatore inserito invece ramani l'ho inserito perché utile al mantra per chi fa il fanta calcio mantra è difensore centrale sinistro destro insomma un fanta milione per il mantra ci può stare soprattutto in una lega 10 ma forse anche in otto perché comunque lo mettete in panchina e vi copre per diversi moduli quindi attenzione a sto giocatorino per quanto riguarda il fanta valcio mantra ho dimenticato qualcuno ditemelo qua sotto senza dire ma non è scritto questo ditemi che ho dimenticato e il perché e in che categoria andava in caso inserito spero vi sia stata utile questa macroscopica analisi non so quanto è durata ma di sicuro una banca vi ricordo che in descrizione trovate anche il link ragazzi per iscrivervi alla lega diciamo pubblica ok so fanta pazzo quindi trovate il link descrizione siamo più di 2800 squadre veniamo di arrivare almeno a 3000 che l'obiettivo minimo che mi sono prefissato ok quindi trovate il link in descrizione la carmi specials league 2019 20 ok quindi detto questo io vi auguro buona fortuna per la vostra asta buona preparazione buono studio è tutto ci vediamo domani con i centrocampisti top la valanga valanga di like ditemi cosa ne pensate di questa analisi qua sotto nei commenti qualche nome che vi stuzzica di più scrivetemi tutto qua sotto nei commenti apriamo un bel dibattito perché questa è una bella community andale valcistica visto che il video è durato un casino io direi a questo punto di staccare ci vediamo domani ragazzi ciao a tutti ringrazio soprattutto chi si sta iscrivendo che sta supportando il canale con like e anche gli abbonati che sostengono il canale anche dal punto di vista economico ciao a tutti ragazzi a domani ciao a tutti